e inizia oroscopando beh ormai è una consuetudine ogni settimana ovviamente da questa mattina lo trovate su www.spettacolandotv.it quindi online quindi lo potete vedere osservare ascoltare vedermi in prima persona insomma quello che volete e poi vi volevo ricordare l'appuntamento ovviamente con Radio Godot ogni mercoledì quindi anche questo mercoledì che è mercoledì 9 ottobre dove avremo tanti personaggi anche in studio Gnometto in primis della Gnometto Band che è Paolo Arcuri ve lo ricordate su Zeli che insomma su tante cose è un personaggio e quindi ha una satira di rompente quindi lo avremo in studio e poi avremo anche in collegamento anche Dato non so se ci farà l'improvvisata di venire in studio eventualmente lo sentiremo in collegamento e poi avremo Francesco Branchetti che è in scena con uno spettacolo a Roma con la Nathalie Caldonazzo che è Parlami d'amore quindi poi parleremo di gossip, parleremo di talent, parleremo di Domenica Inn, parleremo di tanto di tante conduttrici in auge e non e quindi ci faremo una chiacchierata con voi ovviamente tramite i social quindi pure su Facebook potete vedermi sul profilo di Paola Aspi, Spettacolando, Spettacolando di Radio Radio Godot oppure addirittura potete ascoltarmi scaricando l'app di Radio Godot per Android iPhone oppure su www.radiogodot.it quindi Spettacolando l'appuntamento è mercoledì 9 dalle 17 alle 18 e mi raccomando siate tutti attenti a questa trasmissione a Spettacolando in cui io credo molto e spero i nuovi adepti detto questo cominciamo subito con l'oroscopo che è un oroscopo che va dal 7 al 13 ottobre quindi lo potete vedere da stamattina ripeto su www.spettacolando.it cominciamo con il segno della riete che è un segno di fuoco quindi dovrebbe andare a strombottuto ma invece questa settimana non va proprio tanto bene perché l'amore è agitato in questa settimana ma non è sempre colpa vostra potreste avere a che fare con un partner che cambia spesso idea mettendovi in confusione nel lavoro invece potreste avere delle novità ma per ora dovete pazientare perché non è una cosa immediata 3S, ai 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 diceva la signora Longari allora Toro, segno di terra beh in questo caso anche il Toro questa settimana non è che va benissimo ci sono delle tensioni in arrivo che coinvolgeranno anche la sfera affettiva dove dovrete prendere una decisione improvvisa se avete un legame da tempo potreste prendere una decisione importante e nel lavoro cambieranno molte cose 4S, un po' meglio della riete ovviamente gemelli, segno d'aria avrete momenti di passione con chi conoscete da poco, le nuove relazioni sono favorite sotto questo cielo dovete però fare attenzione alla situazione economica ci sono delle uscite improvvise da tenere a bada 4S, cancro, segno d'acqua, in coppia avete dei chiaramenti che miglioreranno i momenti negativi vissuti in passato ancora però ci sono tante cose da risolvere specialmente sul lato economico dove non ci sono ancora spiragli di speranza nuove collaborazioni lavorative 4S, leone, segno di fuoco periodo che può dare soddisfazioni sentimentali solo se non guarderete però indietro ma sempre avanti chi ancora pensa di recuperare un rapporto del passato cerchi di non cadere nella trappola e di trovare un'altra storia per ritrovare il sorriso questo vale anche sul lavoro 4S, verge nel segno di terra le situazioni sono positive troverete occasioni da sfruttare al volo in ambito professionale è un momento in cui bisognerà spingere molto per raggiungere quello che desiderate in tutti i campi 4S, bilancia, segno d'aria in ambito sentimentale le cose andranno meglio e voi riuscirete a stare in armonia con il vostro partner nel lavoro si sbloccheranno diverse opportunità e chi lavora con voi si aspetta molto perché crede in voi 5S, scorpione, segno d'acqua non sono giornate facili avete diversi grattacapi in amore ma se avete l'energia giusta riuscirete a risolvere qualsiasi problema evitate di stressarvi troppo e di risposarvi se potete 3S, sagittario, segno di fuoco emozioni forti in amore in amore potete fare tanti progetti e anche nel lavoro avrete gratificazioni quindi con la coppia va benissimo è un momento da vivere con grande felicità finalmente liberi di osare anche con il partner sentirvi coccolati come non mai da chi prima vi criticava 5S, capricorno, segno di terra in famiglia sarete un po' latitanti siete tentati di frequentare persone nuove per cambiare pagina sentimentale siete un po' birichini in amore quindi attenti a non farvi scoprire in flagrante nel lavoro nuovi progetti tutti da vivere 4S, acquario, segno d'aria avete un po' di discussioni in coppia ma tutte cose che sono risolvibili perché avete molte affinità con chi amate nel lavoro dovete prendere delle decisioni che però non metteranno in barazzo in chi vi vive vicino 4S, pesci, segno d'acqua fanalino di coda di questo oroscopo felicità in amore questa settimana in coppia sarete in una botte di ferro coccolati amati come non mai se avete voglia di uscire dalla coppia state attenti a non mettere a repentaglio qualcosa di importante per una scappatella 4S oroscopando finisce qui vi ricordo che da questa mattina è online su www.spettacolandotv.it e poi io vi do appuntamento ovviamente ricordandovi che l'oroscopo appunto va dal 7 al 13 ottobre e vi do appuntamento mercoledì prossimo quindi mancano poco mancano due giorni 9 ottobre dalle 17 alle 18 su Radio Godot con spettacolando tanti ospiti tanto divertimento tanta satira tanto gossip e tanta Paola Aspri ciao a tutti